Buongiorno a tutti e benvenuti su Olipiz di Wolf, io tanto prima voi viene porre tu un piccolo omaggio a un altro grande che ci ha lasciato, Pierino Prati, vado, periodo non bello, se ne è andato, ci ha lasciati, nella sua gentile umiltà anche Pierino Prati. Lui era un bomber sempre pronto e segnava, c'era, anche perché dietro aveva chi lo lanciava, un certo Gianni Rivera. Una volta l'ho incontrato, pazzesca la sua semplicità, se ne è andato in silenzio con tanta ma tanta umiltà, riposo in pace. Questo è quello che ha regalato Olipiz TV a Pierino Prati. Con questo vi saluto e vi rimando alle prossime. Come sempre, buongiorno a Mario Statoferro, ma quando mai non esiste, arrivederci.